il o lisa allora bella vimba dove vai di bello? aspetta aspetta, lasciami il numero lasciatela stare ma che cazzo vuoi? Vi conviene andar bene. Quante cazze tuoi, biondino? E tu questo lo chiami pugno? Basta, smettetela! Andatela! Ma sì, andiamo, che questo lo spiegate. Tanto a te te li becco! Contaci. Può essere la sesta settimana. Quante lettere? Dieci. Gravidanza! Ci sta? Sì, ci sta. Grazie. Eh, sa, sono proprio in quel momento, vede? Celebri condottiere romano, undici lettere. Dai qua! Sì, 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 sì. Beh? Perché? Un condottiere romano non poteva essere omosessuale. E questa è la succursale di una delle mie tante ditte che... Oh, Lorenzo, vieni a darci mano che viene da spostare un monte di scatoloni. Ha ragione, vieni a darci una mano. Vieni a darci una mano? A me vu dite vieni a darci una mano? Andate a lavorare, andate. Ai principali dicono vieni a darci una mano. Ma c'è dilagante in giro. Ti prego, ti scongiungo. Non farmi male. La devi lasciare stare quella ragazza. Facciamo come voglio. Per favore. Buzz. Hai capito con chi hai a che fare? Capito. Ho capito. Scusami. E non chiamarmi mai più biondino. Mai più biondino. Mai più biondino. Questa. 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 Grazie a tutti. Oggi tutti i dementi li incontro io. Ma mi dite cosa volete da me? Senti vecchio verme, non far finta di avere l'arteriosclerosi. Lo sai benissimo cosa vogliamo da te. A proposito, come ti chiami vecchio verme? Ultimo. E di cognome? Carico. Mi chiamo Ultimo Carico. Spende pure per il fumo. Vado in una fumeria doppio, mi chiamano il diavolo. Poi ho cento facce come i diamanti e come i diamanti taglio, mi taglio e sanguino e svengo e sorrido. Allora vediamo se sorridi. E il diavolo. Tenias è un mio amico italiano. Io ero in Florensa, studio in Pisa e vivo in Pisa. Siete soprattutto per le ragazze, certo? Sì, è vero. E credo che questa casa è bella. Io voglio rinnovare questa casa. Vado. Sì, è vero. Del Giordano le vive e saluta. Bisogna le torri aterrate. Sì, è vero. 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 Alla prossima! Steven! Marco! Voi me! Voi me! Voi me! Voi me! Voi me!